Early Davidson sbarca nella capitale per festeggiare i suoi primi 110 anni, passati tra successi e innovazioni che hanno reso la casa motociclistica il simbolo dei riders di tutto il mondo. Un vero e proprio marchio di culto, quello dell'Early Davidson, che quest'estate porterà a Roma e a Ostia quasi 100.000 motociclisti, amanti della libertà. Dal 13 al 16 giugno quindi anche il litorale romano farà parte del grande evento internazionale che porterà un fiume di appassionati e curiosi sul mare di Roma, in particolare al porto e sul lungomare. Ad annunciare i festeggiamenti la famiglia Davidson che ha presentato l'evento insieme al sindaco di Roma Alemanno. Poco prima della conferenza la famiglia Davidson, composta da Willie Davidson, pronipote del fondatore, la moglie e il figlio Bill, hanno incontrato il santo padre. Le piace Roma? Quanto le piace? Io sono un artista di natura, quindi il fatto di essere un artista mi porta naturalmente in Italia, dove è il centro del design, e in particolare in Roma, dove tutte le persone esperte di design possono riunirsi e celebrare questo grande evento di Harley Davidson. È stata, come dice lei, un'esperienza davvero importante sul piano emotivo, tanto per me quanto per la mia famiglia, mia moglie Nancy e Bill, mio figlio. Qual è il segreto di Harley Davidson? Il fatto di essere sulla piazza già da 110 anni non è da poco, perché non si può dire che altre aziende motociclistiche possano vantare una simile esperienza. È un'esperienza che però non è limitata alla semplice casa di Harley Davidson, ma si estende al pubblico di rider, di motociclisti, che appunto vengono qui a celebrare con noi questo evento importantissimo. Qual è lo spirito dei riders? Sono orgogliosi, sono rumorosi e li piace anche spingere l'acceleratore. Credo che sia un bellissimo evento per tutta Roma. È un evento di grandissimo fascino. Le riders di Harley Davidson rappresentano una realtà che trasmette uno stile di vita, un comportamento, una cultura, trasmette una cultura della libertà. Un marchio dalla lunghissima storia e la città eterna. Mai gemellaggio è stato così appropriato. Dal 13 al 16 giugno a Ostia un grande villaggio, che sarà il centro della manifestazione. Io sono un vecchio Harleyista e quindi il mio 1100 Speedster è stata una bellissima esperienza. E quindi ognuno di noi ha nel cuore questo tipo di moto. Sarà una gioia ospitarli sul nostro territorio. www.osista.com Stri fondi Grazie a tutti.